e bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video più esattente torniamo su airstone per andare a vedere un deck molto molto interessante ma se non l'avete ancora fatto vi ricordo un'iscrizione è un bel mi piace che per me conta tantissimo e se appunto vi piacciono i video di airstone me lo fate almeno capire un pochino oggi cosa è che vi porto vi porto un deck interessantissimo un deck che si basa su minion neutrali che però il rogue ottiene la massima delle potenze no perché rogue cos'è che fa beh rogue è la classe dei rimbalzini e quindi vi permette di andare a riprendere i vostri servitori con breakdance passo dell'ombra e ottenerne magari una supplementare con ombra disfatta cos'è che vi volete rimbalzare ogni turno ecco questo è pud il capo pud il capo che recita che andrà a risuscitare la tua gang ogre gli fornisce fuori l'evento è un semana 6-7 quindi comunque statistiche buone e soprattutto vi va a revocare degli ogre quali ogre andiamo a giocare? beh asso della gang ogre è il vostro ogre principale per quanto riguarda il curarsi ecco questo ogre è fondamentale per dare un po' di vita al vostro eroe il cowboy del gang ogre invece è fondamentale per magari riuscire a fare un quantitativo di danni sufficiente quando andate a evocare tutti gli ogre in quanto il 3-6 avendo il 50% di baffare l'attacco del tuo avversario capite rende un servitore che di base con assalto non fa danni ecco un servitore che invece vi permette di andare a fare danni testa all'avversario in quanto questo quando mi sei 50% vi permette di ottenere più attacco e quindi andare testa il fuori legge gang ogre è un pochino la stessa cosa sbagliando l'attacco magari ogni tanto potrà andare testa e quindi è un'ottima carta in questa situazione per il resto il mazzo oltre ad imbalzare e a giocare gli ogre è un coc normale quindi ovviamente a prep assalto spettrale per andare a pescare più non posso cambio di marcia per aggiustarsi a volte la mano che potrebbe essere un po' bruttina fuori a pesca per andare a trovare il pud intrugliatore ovviamente per le coc porta delle ombre anche qua per ottenere valore aculio giocata a tempo alchimista come per cintura e pozione ovviamente pacchetto coc e lo va a chiudere questo pacchetto l'esperto di pozioni insomma sono due pacchetti interessanti che si vanno ad unire io sono molto curioso di come andrà per formare questo deck e possiamo andarlo a provare subito direi andiamo con la prima partita vediamo subito chi andiamo a trovare in questa circostanza andiamo a trovare cacciatori demoni probabilmente sarà un agro demon hunter spero che abbiate visto il video di ieri per capire quanto è forte questo deck cintura di pozioni ciò possiamo mantenere a shadow step la togliamo il fuori legge comunque una buona carta che mi andrei a tenere in tutta sincerità vediamo 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 come impostare questa partita di sicuro dobbiamo cercare aggredire dobbiamo trovare 5-4 con furto vitale l'unico modo per sopravvivere alla sua aggressività vediamo con sto murlocchino arrabbiato ci sta pensando sul da farsi va a giocare alla fine una naga 1-3 carta che non possiamo nemmeno canterare con questa mano andrei prendere lei sinceramente mamma mia terribile tutte ste robe forse tre danni per spaccare lei al prossimo turno se non giochiamo lui ma probabilmente lui lo vogliamo giocare sempre va di studiare gli dari spera di non trovare un peschino se non trova il peschino sono sinceramente contento di questo turno che andrà a fare però appunto non deve trovare il peschino se no sono problematiche per noi ok il 2-1 va più che bene come dicevo in precedenza qui il 2-3 il 3-2 sarebbe broken davvero perché mi andrebbe a scontare lei potremmo giocare lei niente l'1-4 che è esattente l'opposto del 3-2 io credo che devo sono obbligato a fare questa giocata il 2-3 non può rimanere lì ok ci possiamo lavorare su sta roba è forte per carità sono tanti danni però insomma mi pare anche un po' esagerato in questo matchup una roba del genere possiamo comunque andare di ogre in questa circostanza non andrei ad attaccare vediamo come va ovviamente è attaccato peccato avrei preferito fare il dannino testa non abbiamo nemmeno il mana per poter fare hp passiamo quindi il turno purtroppo non abbiamo trovato gli altri ogre che sono avrebbero la nostra win condition trovare gli altri ogre e pud purtroppo abbiamo tutto quanto nel mazzo e dobbiamo gestirla in questa maniera anche se non so bene come faremo quanto avversario ha avuto un otti a mano si ritrova con 9 carte ci ha fatto 5 danni e quindi questo matchup potrebbe essere completamente in salita se avete visto quanto è forte demon hunter vediamo ci sta già pensando il che mi tranquillizza come cosa perché potrebbe voler dire che non ha un grande turno o comunque magari non riesce a fare un grande turno ora sappiamo che demon hunter ti chiude di solito a turno 6 se gira perfettamente a turno 5 se gira male a turno 7 il problema è che noi ovviamente non abbiamo cure attualmente lo vediamo un pochino ci sta pensando alla fine è molto indeciso se giocare questa naga ok alla fine va a giocare va a scontare di 2 va a fare preparare le cartucce ci spacca il nostro ogre qua non sarebbe male tobleccare il nostro ogre a 5 non è questo il caso direi che andiamo di 8 8 in questa circostanza andiamo a fare il 3 così passiamo il turno prossimo turno sono 16 danni teoricamente se avessimo appunto se andiamo a fare hp il problema è che quanti danni ci entreranno ora a noi lo vedo abbastanza dubbioso sui turni il che mi fa dire forse che non è un grande giocatore di demon hunter che potrebbe essere buono per noi quanto è insicuro prima di lanciare le carte ci pensa un'ora alla fine decide di giocarla va bene non è un grosso problema la lamitarra tra l'altro molto forte in questa circostanza ovviamente fra trade sull'8 6 fa preparare il cartuccio è fortissimo questo turno la vera domanda è se ce lo traddo oppure no guardate questo trade a me va benissimo infanto ci lascia comunque 25 il che è buono capo tu sei un po' prematuro e ti lancierei anche perché non so chi turno fare andiamo a giocare lei breakdance non serve a niente andiamo a ciclare un pochino il mazzo capo tevin sei arrivato un turno dopo niente andiamo a fare lei andiamo a fare hp semplicemente passiamo il turno il problema è che appunto questa roba è tarda per essere arrivata doveva arrivare doveva andare la top deckare ora ora l'avremmo giocata tendenzialmente va di 3-1 quindi ancora non è forse il momento per la sua combo il che a me va bene fino a quando ritarda è buonissimo per noi il problema è se basterà tutto questo c'è tra l'1-4 va a pescare un po' di carte due carte sono esatto va a 9 3 mana rimanenti vediamo se dice farà qualcos'altro si va a giocare a 2-1 insomma prossimo turno ha completamente la combo fatta potrebbe morire in fatigue addirittura vediamo un pochino qual da farsi potremmo valutare di giocare anche lui breakdance in una mossa disperata però questo qua ci serve che ci rientri nel pool perché potrebbe ottenere furto vitale l'unica cosa che è buona di sta cosa qui andrei a rifare HP dopo quindi andiamo comunque a fare il trade in questa maniera andiamo qua andiamo a spaccare qui ok buono porto vitale me lo prendo tutto sinceramente andrei a fare HP è l'unica cosa che possiamo fare in questa circostanza non ha non ha senso fare la spell da 1 passiamo al turno vediamo dai avversario qui va a millare 1 spera di millare un 1-5 non sarebbe male niente va a millare un 1-3 no ma è scorretto ha millato ha millato la penultima carta non ha millato l'ultima gli ha dato uno sugli lidari che è molto più forte però non va a giocare l'1-5 cioè è partito da studio impazzito o non ce li ha in mano che non sarebbe male se non li dovesse avere però insomma è strano magari non ce li ha due carte su 8 lì dentro un po' sfortunato l'avversario in questo caso noi comunque andremo a giocare lui l'unica cosa che spero è che mi tradi sta roba ok me l'ha tradato tra l'altro con una spell che fa danni quindi sono super contento di questa cosa se mi tirasse un po' di danni qui sarei anche quasi contento perché ci andiamo appunto a curare non mi dovrebbe mai seccare con sta board per carità mi fa tanti danni però qua sta perdendo un sacco iniziativa lui eh perché con ogre ora mi vado davvero a curare non lo so non sta giocando bene il mazzo secondo me potrebbe fare molto di meglio lui qui purtroppo non lo riusciamo a ritirare l'ogre quindi ci andiamo a prendere in questa maniera andiamo a tradare prima qui ok buono andiamo a tradare tanto muore lo stesso andiamo a tradare qui quindi vabbè ha preso anche lo scudo di vino andiamo a tradare qua buono direi che siamo fine così così siamo ok siamo a 27 punti vita abbiamo comunque un 6-7 che è bello grosso ok va di 1-5 ora però forse potrebbe essere anche un po' tardino non lo so vediamo se è abbastanza oppure no 1-3 due danni su 4-1 è fine devo andare ovviamente tutti i danni sulla nostra board predazione testa mi preoccupa buono il 3 il danno lì va di sbarazzarsi le prove si va a mettere qualcos'altro in campo va di saggia buono i due danni qua ragazzi mi sa che ce lo portiamo a casa perché ok va di altra tiratrice altri due danni lì non è un grosso problema ormai è finito siamo ancora 25 punti vita noi possiamo ritirare l'ogre fare nuovamente breakdance e teoricamente abbiamo vinto questa partita senza difficoltà niente gg ragazzi qua la spella 0 è forte sono 9 danni non è abbastanza purtroppo per andare a vincere questo game andiamo quindi di paud ci evoca doppia 5-4 che andrà a farmi tutti quanti i trade questo capo basta che mi curi non mi stava curando però va bene l'avversario concede gg well played buona buona vittoria qui l'avversario poteva di sicuro fare un po' di più forse ma ha avuto anche un po' di sfortuna con gli 1-5 seconda partita che ci vede giocare contro warrior warrior avversario di sicuro tosto però noi forse con il nostro valore infinito potremmo fare davvero bene prep non ci interessa cintura di pozioni basta e avanza se dovesse andare a prendere il 3-2 beh in quella circostanza prep non era per niente male ma non è questo il caso io devo stare io devo stare zitto io non so perché ancora parlo nel vabbè è ok andiamo di 3-2 in modo da poter magari contestare l'1-3 suo immediatamente se no comunque abbiamo lei abbiamo anche loro per poter contestare quindi non dovremmo essere messi malissimo valicoina addirittura interessante questa scelta va a settare un'arma asce infusa cittra del 3-2 in questa maniera però noi possiamo andare ai 4-4 puliere su 1-3 sperando di andare a vincere il 50% se no siamo più sicuri di andare a fare lei sinceramente ragazzi tra i 50-50 io mi vado a prendere la certezza che preferisco eh quindi andiamo a pescare se no andiamo a pescare qualcosa di incredibile andiamo a finire di 1-2 beh sai ti dico andiamo di 1-2 in top deck che sembra più figo poi andiamo a giocare lui più lui e dovremmo esserci più o meno il 5-4 è ok e il problema è andare a trovare il put capo una volta trovato il put capo dovremmo essere più che a posto vabbè qua ci attacca l'1-2 ok sta sciupando tutta l'arma il che è ottimo per noi andiamo a vedere se troviamo ulteriori 3 danni che potremmo andarli a fare o spacca servitore troviamo lo spacca servitore ma sinceramente qui io mi voglio fidare il 50-50 perché me lo me lo sento citta niente no più che altro ho pensato magari lo spacca servitore potrebbe essere utile dopo qua va a baffarsi il pezzo va a fare lei vediamo se anche la spella 2 se dovesse avere la spella 2 è un grosso problema mannaggia ce l'ha premiato qua l'avversario tra l'altro no man cosa stai facendo perché ma non lo traddi no vabbè vabbè ma cosa ha avuto che male ha avuto incredibile allucinante cosa sto vedendo madonna mia un disastro su tutti quanti i fronti andrei a giocare comunque il 4-4 andrei a traddare il 6-2 per andare a cercare il mio put capo che è il nostro unica soluzione qui a queste board un po' pazzerelle andiamo a traddare in questa maniera ok buono lì il trade comunque vogliamo andare a shadow steppare cioè a fare prep questo riprenderci in mano e fare un altro trade non credo di volere io qui no io credo che sto bene così speriamo mamma mia ha fatto un turno è bastante eppure siamo ancora in pista però qua il put deve palesarsi perché senza put siamo indietrissimo vediamo cosa decide di andare a fare magari decide lui di andare a fare questo trade no si va a danneggiare la mummia qua ci spacca la cosa comunque ho fatto un ottimo turno avversario ci spinge tantissimi danni ok ma ora è arrivato il nostro turno di andare a fare delle belle cose sto solo pensando sul da farsi 5 in verità possiamo fare tutto qua che è la cosa che mi piace di più andiamo a spaccare il 3-2 a questo punto questo costa 1 vai qua sul 5-4 man 5-4 ok buono possiamo andare a giocare anche il 5-4 che di sicuro ci tratta il 2-1 porto vitale mi va bene avrei forse preferito scudo di vino ma porto vitale è fine non è un grosso problema l'1-4 è ok qui perde comunque un turno enorme per pescare 1 vediamo se chiude con HP no si va a prendere una copia del 3-3 il che non è fine però lo possiamo accettare pud capo trovato e pud capo che andiamo a giocare immediatamente mi sa ho trovato lo scudo di vino che era quello che non volevo che andasse a trovare perché in questo modo non ci muore però vabbè non è che possiamo fare niente qua ovviamente ci da l'attacco mannaggia mannaggia a te ah quante complicanze che mi stai dando capo tutte complicanze qua cinture e pozioni credo che sia comunque un buon turno andiamo a finire il trade andiamo a fare cinture e pozioni pud capo per il turno dopo sperando che queste cose mi muoiano direi che forse il peschino va bene qui spacca servitore per qualsiasi cosa 20 dovremmo essere fine anche perché non ha giocato l'1-4 che va a buffare non ha luogo attivo siamo messi abbastanza bene io spero che si inizi ad arrabbiare con la nostra board perché inizia ad essere tanti danni qua a testa quindi spero che appunto ci vada traddare buono qua ci spacca il 5 2 tutta probabilità l'1-4 è lo stesso fine siamo a cavallo teoricamente possiamo andare quindi di pud capo andare ad attivarci tutti i nostri belli ogre qui andiamo a testa ovviamente ok è andato a testa ci andiamo a riprendere il nostro pud capo credo che vogliamo fare un trade del genere noi che magari va a testa ok è andato a testa vai di nuovo a testa vai di nuovo a testa e vai di nuovo a testa capo 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 cosa ho appena visto ma sono scriptati ragazzi 50 50 50 50 tutto solo testa gg well played gg well played capo e niente andiamo col terzo e ultimo game di oggi mamma mia cosa abbiamo appena visto ultimo game che ci vede giocare contro l'hawk l'hawk che potrebbe essere ovviamente di nuovo il serpentone oppure potrebbe essere anche quello con i barili lo scopriremo molto presto a dire il vero non so se tenere il 5 4 ma vi dirò me lo tengo anche meglio avere il 5 4 ok col 6 7 è buono sempre come contro lock perché almeno ti potrebbe andare a rifullare quindi comunque la curva ci abbiamo 1 2 3 probabilmente doppia coq poi potremmo andare a scoinare lui o comunque tenerci a coin per andarci a fare il 6 7 va bene vediamo se ha un turno 1 certo che ce l'ha va di 1 3 che è un ottimo turno per opponent noi possiamo andare di 1 2 vediamo che mistura andiamo a tenere spacca servitore che è letteralmente terribile quella che non avremmo mai voluto avere ma purtroppo ci dovremmo accontentare direi va di piccolo trade vediamo se va tappare che è la cosa più sensata qui da fare oppure se ha ciminiera ha ciminiera non capisco bene questo trade se lo poteva fare sul suo pezzo aveva paura che probabilmente noi facessimo HP e e andassimo a tradare questa 1 2 però va bene così vi dirò andiamo di 3 2 passiamo il turno prossimo turno andremo a fare 1 2 più lei e probabilmente andremo a tirare quelli scelti da lei ovviamente non questa roba qui che è abbastanza terribile vediamo già che abbia ottenuto una bella ciminiera lì non è affatto male per lui invece per noi è più problematica perché non deve arrivare assolutamente a 4 come si chiama a 4 di sotterramenti va a tappare va a spaccarci il 3-2 comunque turno abbastanza passivo questo la parte sua noi possiamo andare di 1-2 vediamo che cosa abbiamo trovato servitore non ci interessa particolarmente allora noi abbiamo turno 4 turno 5 quindi noi vogliamo andare a trovare le nostre shadow step no? il problema è che avremo 3-5 carte andiamo a pescare 4-9 siamo a posto teoricamente così quindi possiamo andare a pescare 4 carte ci andiamo a prendere la nostra shadow step ho detto shadow step niente non ci andiamo a prendere la nostra shadow step ma va bene così quante carte sono? 3-4-5-6-7-8-9 ok avevo contato bene passiamo il turno mi sembravano 10 per qualche motivo ed è ok così in verità abbiamo shadow step break dance abbiamo un sacco di carte che possiamo andare a trovare sarei abbastanza tranquillo forgi la volontà è forte ma non dovrebbe essere forse tutto questo grande pericolo vediamo se andrà di trade e poi va a fare il luogo no non andrà mai fare il luogo per finire il trade non avrebbe alcun senso allora shadow step non la stiamo trovando però va bene comunque andiamo di 5-4 andrei a fare il trade in questa maniera porto vitale ovviamente ora non serve a nulla avrei preferito scudo di vino ma va bene così prossimo turno mi muovo lui e poi dobbiamo andare di pud cercando disperatamente una shadow step o qualcosa che ci possa aiutare a dire è vero 5 mana per opponent va a giocare il 4-5 non è un problema perché noi possiamo andarlo a traddare ecco già questo luogo è molto forte in quanto ci toglie un po' di aggressività che avevamo niente non stiamo trovando ancora shadow step il che si conferma un problema buonissimo però qua lo scudo di vino va bene va bene va bene per come avevamo preso lo scudo di vino prima qua lo scudo di vino fa la differenza e ha 2 di di sotterramenti quindi è ancora lontano in verità da un possibile reward il che è una cosa positiva però può avere jerry in verità in mano ha disotterrato due volte quindi sarebbe attivo e potrebbe fare un comeback del genere per questo che noi non possiamo buttare il pud in questa maniera sconsiderata attualmente niente ha anche il terzo di sotterramento si avvicina sempre di più al suo pitone maledetto noi non andiamo a trovare shadow step purtroppo per noi e ci dobbiamo arrangiare in qualche maniera andrei a questo punto a cercarla andiamo con lei niente shadow step andiamo a ciclare con lei visto che in fondo al mazzo sappiamo che non c'è niente shadow step dai non farmi impazzire perché mi devi dar contro andrebbe benissimo anche breakdance mi va bene tutto breakdance shadow step sono 4 carte su 13 le ultime due carte in fondo al mazzo non sono dai ti prego man non farmi perdere questa partita perché sei imbarazzante ok ora breakdance no in verità breakdance va bene perché abbiamo prep quindi siamo siamo più che fine l'importante è ottenerla perché se lo lasciamo fare diventa un grossissimo problema vediamo se qui ha la seconda ciminiera che potrebbe andare ad attivarla sarebbe un grosso problema per noi in quanto basta che faccia il luogo copia il 3-4 faccia il trail sul 4-4 e faccia ciminiera comunque la situazione non sarebbe ottimale per noi ma va bene niente impossibile trovare la nostra shadow step barra breakdance va bene allora direi che facciamo una giocata combinata del genere andiamo a mettere più pressione possibile comunque per cercare di non farlo pescare qui non troviamo nulla e va bene anche così possiamo andare scusa io non ho giocato ah no 3-2 mi ha scontato lei ovviamente andrei a giocare anche forse facciamo prep addirittura lei andiamo a pescare peschiamo ancora perché fino a quando andiamo a pescare shadow step impazzisco assalto ombra niente shadow step gli ho tolte gli ho tolte dal mazzo gli ho tolte e ammazzo evidentemente gli ho tolte e ammazzo perché non è possibile non pescare una shadow step o una breakdance 9 carte abbiamo shadow step breakdance breakdance nell'ultima 2 carte non ci possono essere di sicuro perché l'abbiamo vista cicleremo con lei questa partita probabilmente l'avremmo già vinta perché avremmo tirato qua put cap avremmo messo un'aggressività molto maggiore di questa board ovviamente vediamo io ho ancora un turno in verità per andarlo a cercare perché se qui mi mette ad esempio il titano è un disastro il titano perché mi fa uccidere tutto e io sono obbligato a tirarlo perché devo cambeccare in qualche maniera non va a giocare il titano il che boh non so nemmeno se prenderà come una cosa positiva o negativa l'importante è che comunque non vada avanti i reverberi è fine secondo me cos'è che fa 6 mana sta finendo il tempo si copia il 1-4 una giocata proprio disperata a parte di Oppo almeno ti potevi copiare il 4-4 capito che vuoi cercare le misture però insomma mi pare comunque esagerato come turno si va a spaccare la cosa noi ci dà pesco 4 che va bene frigge 3 lani ai nemici comunque l'ho giocata molto forte soprattutto si va a fare tantissime misture dai è arrivato il momento beh tu capisci che non posso giocarlo? cioè tu capisci che non posso giocarlo? no io lo gioco cioè non me ne frega niente io io lo gioco e cerco shadow step da sta roba perché non è possibile non andare a top deck e shadow step io devo iniziare a mettere pressione qua perché se aspetta ancora è la fine no cioè non era possibile non andare a top deck no impazzivo cioè impazzivo cioè non avevo shadow step praticamente va bene la board è fortissima qua è praticamente l'ital sono 28 danni più 1 di hp siamo 1 off con lui potremmo avere l'ital se mette qualcosa in board quindi è obbligato a traddare in qualche maniera il problema è che non abbiamo sviluppato i 3-6 che sono le carte che ci permettono di andare a fare OTK tendenzialmente però va bene prossimo turno possiamo fare lei più lui in verità no perché dovremmo utilizzare breakdance su di lui quindi vedremo un pochino il da farsi va a fare forza e volontà non è un grosso problema Anubisat ci andrà a traddare un 5-4 ma più di quello non fa teoricamente qua va a evocare un altro servitore che è un 2-5 a meno che non abbia trovato qualcosa di incredibile da lì dovremmo essere abbastanza messi bene va appunto a copiarsi il 7-7 come era abbastanza prevedibile ci va a spaccare un 5-4 ok non è un grosso problema qui sono comunque tanti danni che li andiamo a sparare in testa andiamo a rievocare 4 pezzi quindi andiamo a riempire la board andiamo a fare ovviamente breakdance io toglierei a dire vero da qui un servitore possiamo andare a pescare 4 addirittura andiamo a finire praticamente il deck e sto pensando se cercare i 50-50 con lui secondo me ci può anche stare come cosa però una volta o comunque magari quando abbiamo solamente il 2-5 attivo quindi vediamo qui come va ok viene tradato ok ora posso cercare 50-50 prima 50-50 preso secondo no andiamo a fare comunque qua il trade questo qua è il pezzo degli scudi divini e qua andiamo completamente tutto quanto testa ok siamo messi abbastanza bene direi lo portiamo semplicemente 8 punti vita una board incredibilmente forte noi abbiamo ovviamente tutte le shadows e breakdance che vogliamo a questo punto della partita in quanto non le abbiamo avute per tutto il game questa situazione sarebbe avvenuta un turno prima però come sappiamo non c'era la possibilità vediamo perché deve avere la risposta a questa board intruglio mischiato non è di sicuro la risposta che vuole l'avversario a meno che non topdeck qualcosa incredibilmente forte ma settimana io dubito che possa can beccare come il dominatore non è abbastanza da qui prende il serpente però il serpente appunto lo fa andare a 18 e 18 non basta per poter ribaltare la partita ok questo 4-4 mi preoccupa tantissimo ok questa 2 è fine ragazzi riusciamo ad andare a vincere questo game bel game tosto insomma le shadows sono state le ultime cose che ci sono apparse in questa partita però alla fine siamo riusciti a farlo nostro e a vincere che dire ragazzi io spero che il deck vi sia piaciuto direi che per oggi è tutto fate sapere con un commento se questi deck rogue vi piacciono e se l'espansione vi sta piacendo vi ricordo anche una bella iscrizione un bel mi piace che a me fa davvero tanto tanto comodo e niente noi ci vediamo con un altro video ciao 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 ciao